Buongiorno, dottoressa. Sì, sì, devo rianciare. C'è un altro candidato che... ciao, ciao. Sono io, dottoressa. Buongiorno, dottoressa, si ricorda di me? Buongiorno, certo, dottoressa. Come non potrei provarmi lei? Gino la bobina, dottoressa. Dottoressa, io quel posto non ho voglia di guidatori, dottoressa, lei mi deve aiutare, dottoressa, mi... li prego. Ha studiato? Certo, ho studiato, io vengo quattro giorni. In inglese? Questa volta ha studiato. Sì, dottoressa, ha studiato, però, no, sì, perché? Io ho fuori un sacco di gente che vuole fare il colloquio. Lo so. Non mi faccia perdere tempo. No, perché vuole fare... vabbè, loro aspettassero, dottoressa. Lei mi garantisce che ha studiato questa volta? Sì, dottoressa, studia. E adesso? Sì. Le rimetterò la prova. Sì, è forte, dottoressa. Allora, mi deve provare adesso questa frase? Sì. In inglese? Non è chiamato in inglese, in inglese. Sì, però non si ingazzano, dottoressa. Allora, il cane cadde nell'acqua e affogò. Peccato, però. Mi sta a raccontare il fatto del cane suo. Ah, è proprio la frase che devo tradurre. Scusa, però. Allora, il cane cadde nell'acqua e affogò. The dog patapum in the water e glu glu, bau bau, no more. E quella, dottoressa? Ce la posso fare. The dog patapum in the water. Si è in silenzio, basta. Basta, si è in silenzio. Mi vedo un'altra, proprio semplice. Come fanno le asilo, va bene? Comunque, perché la tua prima era difficile, dottoressa, ma lo devo vedere l'onestamento, dottoressa. In silenzio, basta. Si, però, una falsa. Può fare cinque minuti di silenzio, dai? Pure, sì. Cinque secondi. Va bene, ma adesso. La parola è? Si. Applaudire. Applaudire è... Applaudire è... La parola stessa... Applaudire... Ehm... Batman! Eh? Batman! Fuori da questo ufficio. Devo tradurre pure questo. Devi uscire dall'ufficio. Esca! Fuori! Vabbè, 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 non mi hai aiutato proprio, eh? Vai, vai, sono un'aiuto nessuno, ragazzi! Ehm, è un'aiuto nessuno!